Gentili telespettatori buona giornata e gentiloni va in Tunisia dall'Europa in Tunisia un sostegno economico per frenare la pressione migratoria quindi faccia faccia quasi saltato con il presidente Sayed l'Unione Europea ha confermato la disponibilità a una nuova operazione di assistenza macro finanziaria ma prima servono riforme strutturali e democratiche beh certo che parlare di democrazia a un dittatore che ha appena instaurato la dittatura in Tunisia garanzie di democrazia e beh riforme da un lato e sostegno economico finanziario dell'altro cioè la comunità internazionale è pronta a prestare dei soldi alla Tunisia però in cambio deve mostrarsi in un certo in un certo modo più evoluto più più con caratteristiche diverse e così riforme e soldi devono andare di pari passo che ha ribadito il proprio impegno Gentiloni con l'Europa nel paese attraverso la visita del commissario dell'economia Gentiloni lunedì nella capitale a Tunisia una crisi economica incredibile una crisi democratica e sociale che rischia di aumentare la pressione migratoria sull'Italia e sull'Europa c'è preoccupazione a Bruxelles e a Roma per la crescente instabilità c'è preoccupazione però quando hanno dovuto prendere un accordo per definire il da farsi hanno detto ci risentiamo a giugno a fine giugno fra tre mesi ecco quindi vi fa capire che a tratti parlano di crisi grave poi il giorno dopo parlano di in maniera diversa di tutto ciò il ministro degli esteri italiani sottolinea che l'emergenza finanziaria alimenta quella dei migranti poi il commissario Gentiloni ha incontrato il presidente tunisino Kais Sayed in un primo momento il faccia faccia sembrava essere stato cancellato per motivi di agenda ma poi comunque c'è stato l'incontro è durato oltre un'ora ed è servito a confermare l'importanza del partenariato strategico tra Unione Europea e Tunisia oltre ai legami storici e culturali e agli interessi geopolitici comuni l'Unione Europea ha confermato la disponibilità a una nuova operazione di assistenza macrofinanziaria ma è essenziale che Tunisi chiuda prima l'accordo per un prestito da 1,9 miliardi di dollari con il Fondo Monetario Internazionale che chiede in cambio riforme strutturali e democratiche hanno discusso anche di migrazione alla fine in maniera molto veloce un tema che per l'Unione Europea va affrontato cooperando senza lasciare sola la Tunisia credo che secondo me doveva essere un termine di scambio noi vi aiutiamo economicamente e voi però vi impegnate a non far partire le persone sembra quasi che si abbia paura di parlare di questi argomenti ecco così è una mia impressione dal 2014 al 2020 l'Unione Europea ha erogato 1,4 miliardi di euro di prestiti al paese arabo alla Tunisia e 1,6 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto Bruxelles dunque incoraggia Tunisi a confermare il sostegno al paese ma chiede anche un forte impegno sul rispetto dei valori democratici consapevole però nel fatto che il paese sta vivendo in una transizione democratica da pochi anni ed è l'unico nell'area Gentiloni poi incontra anche il ministro degli esteri della Libia e nel tardo pomeriggio la premier Najila Borden Rahman insieme alla ministra delle finanze tunisina in una nota ufficiale pubblicata poi anche su Facebook il ministro degli esteri tunisino riferisce che la discussione ha riguardato investimenti, istruzione ed energia il ministro Ammar ha chiesto all'Unione Europea di mostrare comprensione per la fase che attraversa e che conta sulla mobilitazione delle proprie risorse sul sostegno economico e finanziario dei suoi partner compresa l'Unione Europea naturalmente l'incontro di Gentiloni in Tunisia va nella direzione di trovare un accordo però l'incontro così rimane fino a se stesso un incontro dovrebbe portare a un legame tra i due paesi nel senso che visto che la Tunisia vuole respingere tutti quelli che arrivano dall'Africa subsahariana non li vogliono più nel paese a questo punto dovrebbe il governo tunisino prendere queste persone e inviarle al luogo di partenza però questo avete capito bene che è un discorso abbastanza ampio ecco un discorso abbastanza ampio la maggior parte degli arrivi irregolari in Italia proviene dalla Tunisia il 60% del totale che ha sostituito la Libia per numero di partenze come messo in evidenza da un documento della commissione presentato al Consiglio Affari Esteri della corsa settimana dicevano così che gli arrivi nell'Unione Europea attraverso la rotta del Mediterraneo centrale sono aumentati del 164% nei primi due mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 si legge nel documento nel testo si sottolinea che l'interesse dell'Unione Europea continua a lavorare con le autorità tunisine allo stesso tempo l'azione dell'Unione Europea dovrebbe essere adattata e riorientata tenendo conto delle circostanze attuali ed evitare l'impressione di business di cercare di fare col loro solo business bene, Gentiloni vai a Tunisia a capire che si può fare cosa succede, cosa succederà va benissimo ma in quei posti se non sganci i soldi non ti ascoltano e funziona così se tu arrivi lì con in mano figurativamente tanti soldi allora ti raccontano qualsiasi cosa bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete e poi due canali in cucina con Carla e tutorial d'uncinetto con Carla Crochet sono canali appena aperti se vi interessa dategli un'occhiata grazie a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti grazie a tutti per qualsiasi